Oggi giovedì 14 novembre 2019, un'antica costruzione nella roccia, una caverna, là è la mia cagnolina Sprastar Marylin, la mia moscata Marylin. Questa è l'entrata, adesso entriamo nella caverna, antica costruzione, siamo all'interno, facciamo una ripresa a 90 gradi, qua c'è l'uscita, la mia Marylin, tutto il giro, qua c'è una finestra, i sassi della roccia, il soffitto tutto di roccia e ancora verso l'uscita, sullo sfondo il lago di Cavedina, Valle dei Laghi, Trentino.